L'Ether rinnova pelle in colore in forma liquida brevettato senza silicone, cere e vaselina che rinnova e mantiene la tonalità di colore originale della pelle del cuoio. L'Ether è particolarmente utilizzato e apprezzato per impermeabilizzare scarpe, stivali e giubbotti con la più lunga durata d'effetto mai ottenuta prima. Il prodotto è in forma liquida per essere assorbito facilmente e in profondità da pelle e cuoio, in modo da stabilizzare il più a lungo possibile il risultato ottenuto con l'applicazione di L'Ether. Così non rimane unto al tatto come tutti gli altri prodotti, pur conservando la sua caratteristica idrorepellente e termoresistente con la più lunga durata d'effetto mai ottenuta prima da nessun altro prodotto. È dimostrata, superando prove di resistenza assolvente e diluente, che nessun altro prodotto concorrente è in grado di dimostrare di poter superare. L'Ether ha funzione fungicida per togliere la muffa e contrastarne la formazione per molti molti mesi con una sola applicazione. Non contiene silicone, cera o vaselina e quando l'effetto termina non lascia quei classici e fastidiosi residui bianchi di silicone e paraffina. L'applicazione è facile e veloce e va fatta a pennello, procedendo a tratti brevi, sulla pelle asciutta e non resa bollente dal sole. Dopo qualche minuto, con un panno si toglie il prodotto in eccesso che non verrebbe assorbito. Facile, veloce e soprattutto conveniente, con la più lunga durata d'effetto mai ottenuta prima da nessun altro prodotto. L'Ether è un prodotto dalle caratteristiche uniche e brevettate che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente. Prodotto in Italia in esclusiva con brevetto Black Traction. Lo puoi acquistare sul sito Black Traction, ma non lo trovi su altre piattaforme come Amazon che sfruttano l'indicizzazione del prodotto per orientarti su prodotti che non hanno uguali caratteristiche di resa, durata, resistenza e convenienza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS